Terza corso in programma, il premio Godley, i cavalli che sono completamente nelle gabbie di partenza, partiti in questo momento, ricordiamo che si tratta di un handicap sul miglio in pista piccola, otto i cavalli al via con Don Aurelio che è chiuso da favorito ma davanti ci va subito Infinity Focus, in seconda posizione Love You Anyway, poi in terza troviamo Pellicano Joe che ha al suo esterno la figura di Touch of Grey a precedere a Coniton, Michael Corleone, poi ancora Don Aurelio e chitarrista a completare il quadro, Infinity Focus sta facendo i suoi comodi in avanti con Salvatore Basile che sta cadenzando il ritmo, Pellicano Joe che non lo perde di vista, Love You Anyway che si è messo proprio sulla sua scia, in quarta troviamo invece Touch of Grey a precedere a un terzetto formato dall'esterno verso l'interno da Don Aurelio, Michael Corleone a Coniton e poi chitarrista a chiudere il drappello degli otto partecipanti. Siamo a metà curva, nulla che sia cambiato, sempre Infinity Focus a galoppare davanti nei confronti di Pellicano Joe, Love You Anyway, Touch of Grey, poi Michael Corleone, Don Aurelio, all'interno troviamo a Coniton e chitarrista quando i cavalli sono in dirittura d'arrivo che è quella di pista piccola, sempre Infinity Focus in vantaggio, adesso è aggredito da Pellicano Joe, Love You Anyway che deve cercare il varco ed è murata all'interno, Michael Corleone che si presenta al centro della pista, più all'esterno troviamo Touch of Grey, Don Aurelio, chitarrista che si è messo sulle gambe proprio adesso, a Coniton che qualcosa ha perso in questo parziale, ma siamo a 300 dal palo, Pellicano Joe va a forzare rispetto ad Infinity Focus, dal centro della pista si mette sulle gambe chitarrista, ci prova anche Love You Anyway con Pellicano Joe che è davanti e sta accelerando gradualmente, Pellicano che ne vince un'altra così e lascia ancora a secondo posto Infinity Focus e per il terzo Love You Anyway. Vice Pellicano Joe, ben posizionato vicino alla testa, attore sulla sinsella, il training e i colori sono quelli di Luca Ruggeri, 4 al primo posto, al secondo, all'ennesimo secondo posto Infinity Focus che forse è al quinto o addirittura sesto secondo posto a fila, una piccola impresa in qualche modo anche per lui e al terzo il train Love You Anyway, 4-1-3 l'ordine d'arrivo, vince Pellicano, quota fissa di 6, è tutto per la quarta corsa da capanelle.